Ci siamo, ci siamo per questo momento attesissimo ed è un momento di grande festa e noi siamo veramente felici anche perché c'è una grande partecipazione nonostante il maltempo. Sono passati poco più di dieci mesi dall'apertura dei cantieri e oggi vedrete insieme a noi le acque scorrere nuovamente. Grazie.